Cenerentola, Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Alice nel Paese delle Meraviglie, La Fata Turchina, Il Principe Azzurro, La Regina di Cuori, Maleficent e La Sirenetta, da fiabe per bambini a performance di Burlesque. L'idea è venuta a Francesca Filardo di Burlesque Art Napoli, che al teatro Arcas ha proposto uno spettacolo fatto di danza, musica e comicità. Ad accompagnarla sul palco un gruppo di performer, Amira Rosa, Raimi Flame, Cherie Monet, Scarlett Melody. Lo show è stata una novità assoluta per l'Italia, uno spettacolo tematico che rivoluziona le fiabe in chiave burlesque, inventando nuovi possibili finali per ogni personaggio proposto al pubblico. Francesca Filardo, ai nostri microfoni, soddisfatta precisa. Ognuno dei personaggi è stato molto ricercato, in particolare ci siamo molto divertite a creare il filo conduttore attraverso tutta la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie, perché ovviamente avevamo bisogno di avere una stage kitten che avesse un senso con le favole e quindi con Rami ci siamo divertite molto a creare questo filo conduttore. Ma quanto è difficile modificare favole famose come Cappuccetto Rosso o Biancaneve, ce lo raccontano le performer. Perché è una cosa che questa non è stata mai fatta da nessuno, quindi è un'assoluta novità. Devi prendere tutti gli atteggiamenti del personaggio e cambiarli anche in versione burlesque, quindi è un passaggio molto 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 difficile. Di per sé non è facile, però insomma con un po' di esercizio ci si prova, almeno noi ci abbiamo provato a fare del nostro meglio, ci siamo sicuramente divertite tantissimo e niente, la cosa principale è buttarsi, divertirsi e non pensarci. C'è sempre un po' di imbarazzo perché denudarsi o comunque spogliarsi, svestirsi davanti ad una platea e comunque non è una cosa che facciamo tutti i giorni.